Poracci, molti di voi hanno sbagliato, The Evil Within a quanto pare non se lo ricordano in tanti. Oggi premio non tanto il più veloce ma il buon Eddie Beatpaine che è stato l'unico a scrivere anche il titolo del DLC da cui è tratta questa scena, grandissimo. Mentre a Lonely Beetle commenta con Non Death Silent Hill. Effettivamente, oh, abbassate quella musica che qui c'è gente e vuole dormire. Eh, e che cavolo. Ma prima di metterci a nanna andiamo avanti. Di che gioco si tratta? Solo risposte sbagliate, sorprendetemi. Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi senza mai montare delle aspettative esagerate. Mai, proprio mai. Quella di oggi sarà una puntata ricchissima e forse in voi mi farei prendere dall'hype. Discuteremo dello State of Play di ieri sera che per me è stato fenomenale ma so che ha lasciato molti di voi interdetti. E poi parleremo anche della nuova console Sega che purtroppo però non è quella che stiamo aspettando tutti quanti. Prima di partire però, come al solito, vi invito a mettervi il casco, a lacciare le cinture e partire comunque a piedi verso la conquista non violenta di internet.com e la fondazione del Poroverso. La prudenza non è mai troppa. Lasciate un like e iscrivetevi attivando la campanella delle porotifiche e seguitemi su tutti gli altri social. I link li trovate in descrizione. Bene, ho detto tutto, iniziamo! Partiamo con qualche notizia al volo. Vi ricordo che questo weekend si terranno le sessioni online per la demo di Battle League Football. Vi siete allenati per bene nella modalità training? Ecco, ora è il momento di iniziare a fare sul serio contro gli altri giocatori. Sabato e domenica sarà infatti possibile partecipare a quello che è, a tutti gli effetti, un network test travestito da demo per Mario Strikers. Ci saranno ben tre sessioni di un'ora al giorno, magari la prima è un po' scomoda, ma le altre due saranno imperdibili. Non dimenticatevi di provare online e poi fatemi sapere cosa ne pensate. Ultimamente non abbiamo fatto altro che parlare male di Sonic Origins, ma non tanto del gioco in sé, più che altro di come Sega abbia gestito in modo pessimo tutta la campagna pubblicitaria. Quindi, rilassiamoci un attimo e diamo uno sguardo a quello che di interessante c'è in questa collection. Durante uno showcase di Famitsu, infatti, sono stati mostrati tanti elementi inediti della raccolta. Si va da nuove cazzi inanimate a nuovi elementi di gameplay, come la schermata di selezione dei personaggi in Sonic 2, una sorta di world map con tutti i titoli presenti in Origins, il mirror mode e anche un primo sguardo all'interfaccia del museo. Dai, ormai questi titoli li abbiamo provati fino allo sfinimento, ma se non altro Origins promette di offrire un pacchetto bello completo, almeno se scegliete la versione giusta. E visto che stiamo parlando di ritorni di vecchie glorie, ragazzi io sono sempre più in hype per la clonoa Fantasy Reverie Collection. E ormai manca veramente poco, la raccolta infatti uscirà il prossimo 8 luglio. Intanto Bandai ha ben pensato di proporre un video comparazione tra i due titoli originali e le nuove versioni in HD. Quindi, che dire, a me piace parecchio, ma è innegabile che qualcosa sia cambiato radicalmente nell'artstyle, e sospetto che si tratterà di una di quelle scelte stilistiche che spaccheranno in due la fanbase. A voi cosa ve ne pare di questa collection? Ma bene, passiamo alle notizie del giorno e cominciamo commentando lo state of play di ieri sera. Per me si è trattato di un evento grandioso, ma sono rimasto abbastanza sorpreso nel realizzare che in parecchie hanno avuto una reazione abbastanza fredda e distaccata nei confronti di quanto mostrato da Sony. Insomma, per una volta che il publisher stesso aveva evitato di montare un hype ingiustificato con dichiarazioni altisonanti pre-evento, mi sarei aspettato tutt'altra reazione da parte del pubblico. C'era stato detto di partire con aspettative medio-basse, dopo tutto, no? L'evento avrebbe riguardato esclusivamente i giochi per PlayStation VR 2 e i titoli di terze parti, quindi non aveva senso aspettarsi un God of War o qualche esclusiva di peso dei PlayStation Studios. Quindi sì, poteva venire mostrato tutto come niente, ma hanno deciso di partire col botto, mostrando uno dei remake più attesi degli ultimi dieci anni. Voracci, il ritorno di Resident Evil 4 è epocale. Si tratta di un gioco che ha riscritto i canoni dell'action in terza persona e l'idea che possa subire un trattamento simile a quanto accaduto con Resident Evil 2 dovrebbe far impazzire dalla gioia non solo i fan hardcore della serie. Certo, la data è ancora lontana e cadrà pericolosamente a ridosso di Breath of the Wild 2 e il primo impatto grafico non è stato dei più incredibili. Ma io do massima fiducia a Capcom che ultimamente non sbaglia un colpo. Dai, a parte Resident Evil 3. Lo state of play è poi proseguito con un interessante primo sguardo a quello che sarà il futuro della realtà virtuale, anche se del PSVR 2 non sappiamo ancora niente. Capcom conferma un supporto massiccio, No Man's Sky ormai sta bene su qualsiasi cosa e Call of the Mountain è un ottimo biglietto di presentazione per il nuovo visore Sony, però c'è qualcosa che non mi convince appieno. Ok, le parti da Walking Simulator con degli accenni di parkour, ma il combattimento? Non so quanto questo episodio riuscirà a tradurre in modo convincente le fasi più action del titolo guerriglia. Comunque, la cosa migliore di tutte è che per ora il team Asobi Studio, o meglio, Japan SIE, non sembra essere impegnato con il PSVR 2. Prego, veramente, con tutto il cuore, che prima o poi esca un platform tradizionale in grado di espandere e perfezionare quanto visto con l'incredibile demo tecnica di Astros Playroom. È stata poi manifestata nuovamente la volontà da parte di Sony di trasportare tutto il catalogo PlayStation su PC e questa volta è toccato alla remaster di Spider-Man di Insomniac, a cui seguirà Miles Morales più avanti nell'anno. L'acquisto di Nyxess inizia a dare i suoi frutti, ma io mi concentrerei principalmente su due aspetti. Il primo, questo significherà poter giocare su Steam Deck al fenomenale open world dell'uomo ragno, una cosa non da poco, e due, che questo tweet è invecchiato decisamente male. Il mercato sta cambiando molto rapidamente, non trovate? Stray poi si conferma come un action-adventure potenzialmente molto interessante, ma non è che sia proprio chiarissimo come funzioni il gameplay, e a poco più di un mese dall'uscita queste perplessità sono un po' allarmanti. Comunque il titolo sarà disponibile al download gratuito per gli abbonati al PlayStation Plus a partire dal 19 luglio, ma solo per chi è abbonato ai due tiers superiori. Una scelta secondo me un po' controversa, ma di cui non si sta discutendo abbastanza. Non trovate? Callisto Protocol sembra ancora più Dead Space di Dead Space, e non vedevo un titolo così brutale da tantissimi anni, e così a caso vi sparo due nomi che mi sono venuti in mente riguardando il trailer, The Suffering e Chronicles of Riddick. Chi se li ricorda tra di voi? Comunque un titolo da tenere sicuramente d'occhio, ma non credo di essere preparato psicologicamente per un horror del genere. Questo lo lascia i coraggiosi. Mi riservo qualche dubbio su Roll7, ma solo perché è fatto dagli autori di Olly Olly, che di acrobazie se ne intendono abbastanza. Se non si tratta di un titolo battle royale o incentrato unicamente sul multiplayer online, hanno la mia attenzione, altrimenti continuerò ad aspettare in silenzio il ritorno di Jet Set Radio. Ethernites non è decisamente roba che fa per me, però sono rimasto incuriosito dal logo di Columnites, e sono andato a cercarmi chi fossero. Si tratta di un publisher specializzato nel finanziare economicamente progetti di piccole e medie dimensioni. Tra i titoli a cui hanno partecipato ci sono anche Sifu, Garden Story e Spiritfarer. Un minimo di intuito sembrano avercelo. Poi bisognerebbe fare un video a parte su Street Fighter VI, tanta roba veramente. Il character design non mi fa impazzire, ma il feeling dei colpi direi che c'è tutto, e sono curioso di vedere come verrà recepito dalla frangia degli utenti hardcore, e considerate gli ingenti investimenti che Sony sta effettuando nel mondo dell'eSport, ha senso che il gameplay di Street Fighter VI sia stato mostrato per la prima volta in questo State of Play, ma attenzione perché a differenza del quinto capitolo, questo non sarà un'esclusiva PlayStation. Tra le cose interessanti sembra esserci l'inclusione di una modalità storia un po' alla Tekken Force, oltre alla presenza di una lobby multiplayer interattiva, e poi, se volete, su Twitter è stato liccato il roster completo, almeno quello della prima edizione. Chissà quanti altri ne vedremo. Ah, e c'è anche una nuova feature potenzialmente interessante, ma secondo me non riuscita benissimo. Il commento dal vivo, la telecronaca in inglese e giapponese degli incontri, un po' come se si trattasse di un match eSport in loco. Il risultato non mi sembra però entusiasmante. Voi che ne pensate? Poi, brevemente, capitolo Tunic. Chi non l'ha ancora giocato è un folle, e se non lo recuperate su PlayStation, siete folli due volte. E su Tunic non dico altro. E chiuderei con Final Fantasy XVI. Un trailer studiato d'arte, super interessante, ma data di uscita molto più lontana di quanto mi aspettassi. Ci sarà da vedere come il combattimento action, che in certi frangenti sembra quasi dirottare nel regno dei picchiaduro uno contro uno, sarà integrato all'interno della struttura da JRPG, e prego che per questa volta si sia scelto un world design molto più lineare e meno aperto di quel mezzo disastro che è stato Final Fantasy XV. In ogni caso, apprezzo tantissimo il ritorno a un fantasy molto più puro e tengo il progetto d'occhio con un moderato hype, solo che con questi ritmi, quando cavolo vedremo Final Fantasy VII Remake Parte 2. Quindi, per me c'è stato veramente di tutto. Non si tratta sempre di titoli in esclusiva o dall'uscita imminente, ma mettere in piedi una cornice del genere non è semplice. Per me sono stati 30 minuti emozionanti dall'inizio alla fine. Cioè, poracci, ve lo ripeto, hanno aperto con il remake di Resident Evil 4. Follia. Si è spaziato tra generi differenti e hanno trovato spazio tra i nomi importantissimi del panorama videoludico. Voi poracci, cosa ne pensate di questo state of play? E chiudiamo tornando a parlare della nuova console di Sega, che sì, è una console classic mini, ma no, non si tratta né del Saturn né del Dreamcast. Mi dispiace. Eeeh, quel controller di cioccolato un po' preannunciava un'operazione del genere. Perché era cioccolato, vero? Comunque, Sega sembra non essere ancora sazia di mini console e decide di rimettere sul mercato, per ora solo quello giapponese, il redesign del Mega Drive. Il Mega Drive 2 Mini, che questa volta comprenderà la bellezza di 50 titoli appartenenti sia alla libreria del Mega Drive, ma anche del Sega CD o Mega CD, come preferite. La libreria sembra andare a pescare titoli molto particolari e per ora è un po' difficile reperire informazioni dal giapponese, però tra i tanti nomi sembra esserci anche una versione inedita di Fantasy Zone, che in realtà non è mai stato pubblicato sul Mega Drive. Inoltre, anche questa volta, non si sono regolati con gli accessori e sarà nuovamente possibile costruire, senza alcuna finalità se non quella estetica, l'accrocchio completo con Mega Drive, 32X e Mega CD, questa volta però nella versione orizzontale. Non so, a me sembra proprio come il Game Gear Minio, un prodotto studiato ad arte solo per i super fan di Sega, ma che in realtà ha un'utilità prossima allo zero. Chissà se arriverà anche da noi in Occidente. Voi poracci cosa ne pensate? E questo poracci era tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto, tra i commenti, per continuare a discutere assieme delle notizie del giorno. Dai, non ci credo che questo State of Play vi ha deluso. In ogni caso, non mi resta che darvi appuntamento a lunedì con un nuovo video. Voi mi raccomando questo weekend, fatelo per me, riposatevi, fate i bravi, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro State, Michele, oh mio Dio, il remake di Resident Evil 4, mi sento male, ciao! Ehi, fermo, se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! Ma si muove tutto! Ma che è? Tutti che sparano, tutta violenza, tutta 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 tutta